Buongiorno, io mettiamo in base le notte di mani qui, è cotto anzi, fai vedere la tua regione proprio più o meno non c'è? no, ma questo è un po' molto più cantare così ormai il paese fa fanno questo è bello buongiorno a tutti, io mi chiamo Markham stesso po' vengo dal Mali sono andato proprio nel Capitale buongiorno a tutti, sono Umar e vengo dalla costa da voi non ci vediamo capito ciao ciao spostiamo un po' la serie sono andato via è rimasta piccola è rimasta piccola sono andato via sono andato in mani non scusco vorrei che fiume vabbè, il Mali piccola non ci vediamo sto po' Ciao a tutti, buongiorno, mi chiamo Omar Bangor del Gambia, il paese più piccolo del patriarca, questo, questo è il rosso dentro la Senegal e sono nato qua in centrale. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Boba Carpiallo, però qui mi chiamano sempre Boba e sono contentissimo di essere qui oggi con voi, ringrazio veramente Paolo e Giulio e Luciana che sono andati da noi per fare la richiesta se possiamo venire a fare questi discorsi. Mi chiamo Boba un venti anni, vengo dal Senegal, io abito forse verso di qui che si chiama a Tampabani adesso, va bene, adesso abito, va bene, allora io ho bisogno, no aspetta, io farei subito la divisione in 7 e poi continuiamo a parlare mentre facciamo la divisione in 7 o preferite che parliamo prima a 4 o facciamo la divisione in 7? Parliamo prima a 4? Parliamo prima a 4? Allora, allora, per... Per... Per...